Ancora una vittima tra i reparti covid dell'ospedale Sampio di Benevento, che risultano ormai praticamente saturi con ben 88 digenti sugli 89 posti letto. Una situazione che la direzione generale ha deciso di affrontare immediatamente con l'ampliamento della capacità del nosocomio sannita. L'ospedale adesso è abbastanza pieno, ma noi già ci siamo mossi con qualche giorno di anticipo e penso nel corso di domani, dopodomani siamo pronti per l'attivazione di altri 17 posti, arriviamo a 106 posti. Abbiamo ampliato il numero dei posti di terapia intensiva, di subintensiva e di degenza. Dopo un anno siamo ormai rodati, prosegue Ferrante, ma la terza ondata presenta molte insidie. L'età media si è abbassata, quindi ci sono molti giovani, questa è l'unica cosa che, insomma, tra virgolette potrebbe preoccupare. Cioè quelli che si ammalano entrano subito in una fase abbastanza critica subito e quindi ecco perché è pericoloso e bisogna stare attenti. E in città emergono ulteriori contagi. Anche all'Asia, l'azienda che si occupa della raccolta dei rifiuti nell'ambito degli screening anti-covid predisposti dal protocollo aziendale, ha scoperto ben 10 operai risultati positivi su un totale di 145.